Ciao ragazzi, guardate dove stava dormendo il nostro bell'amico Machiavelli Ebbene si, in un secchio con della terra o comunque della sabbia In ogni caso in un luogo davvero molto strano E non è il solo, è solo uno dei pochi luoghi che lui frequenta diciamo Vero bello Machiavellino? L'ho toccato! Ok lui diciamo che non è molto abituato al contatto umano Quindi ora mi allontano perché potrebbe anche aggredirmi Ah e comunque notate, tiene gli occhi chiusi perché dà fastidio alla luce che sto usando Dato che è una certa ora, cioè si è fatta una certa raga È molto tardi Proviamo ad avvicinare al massimo ma lui mi ucciderà Oh mio dio raga mi sta graffiando Vabbè comunque ragazzi ci lasciamo con questa immagine e iscrivetevi al canale Ciao bandi Ciao bandi! Grazie a tutti.